In vista delle elezioni presentate le nuove iniziative politiche del movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla. Voglio esprimere tutta la nostra contrarietà alla macellazione sociale che sta facendo questo governo e questa maggioranza con la legge del biotestamento. Noi difendiamo i diritti, noi difendiamo i valori e non li svendiamo per alleanze politiche. La leader del movimento animalista Michela Vittoria Brambilla dice no alla legge in discussione sul biotestamento e parla di alleanze in vista delle elezioni di primavera. Le alleanze che noi vedremo di volta in volta saranno soltanto sulla base dei programmi, per cui posso già dirle che sicuramente non potremo allearci con questo PD perché ogni giorno ci mette davanti agli occhi le politiche più anti-animaliste della storia della Repubblica. A Milano la parlamentare si è confrontata con gli attivisti sui principali temi che stanno a cuore al movimento con nuove iniziative e battaglie comuni. Dopo il no alla caccia e il bracconaggio scende in campo contro lo sterminio dei lupi e sul delicato tema della macellazione. Denunciamo certamente l'ennesimo tentativo da parte di questo governo di permettere uno sterminio legalizzato del lupo, un animale protetto e che in alcun modo può essere gestito come regalo elettorale perché andiamo verso la fine legislatura. Non voglio raggiungere un'esforza internazionale, è un'esforza internazionale, è un'esforza internazionale devo essere gestito come regalo l'esterno da parte della regola per parte del comandarlo.